E' giunto a termine l'ennesimo periodo di commissariamento della città di Brindisi. Dopo Cesare Castelli e Santi Giuffrè, rispettivamente dopo la fine anzitempo della giunta Gonzales prima e Carluccio poi, da lunedì Brindisi avrà il suo nuovo sindaco, ritorna dunque la politica in città dopo intervento del governo. Giuffrè ha voluto così indire una conferenza stampa per salutare giornalisti e città. Nel corso della stessa ha illustrato le opere degli effettuate e dei suoi subcommissari non prima però di aver posto l'accento sul gravoso stato in cui versano le casse comunali. Giuffrè ha annunciato anche che da parte del comune è stata avanzata l'ipotesi di dissequestro di una parte della discarica di Autigno. Ora la palla passa alla procura. Alla città e alla sua politica invece il compito di togliere Brindisi da quel troppore di cui è vittima da anni.